Buonasera, benvenuti alla presentazione dell'ultima fatica letteraria di Pino Roveredo, ci vorrebbe un sassofono, che è il secondo incontro di una serie che si innesta in un ciclo chiamato l'Incipit, organizzato dall'Arci di Cervignano, con sempre il patrocinio del Comune di Cervignano e il sostegno della Casa della Musica. Abbiamo qua l'assessore alla cultura che non so se vuole dire... Vuoi che dico io qualcosa per te? Sono contento che è venuto Pino Roveredo. Allora, ci vorrebbe un sassofono in un mondo ideale, ci vorrebbe veramente perché lo avremmo avuto come accompagnamento musicale, ma questo non è un mondo ideale. E non è un mondo ideale neanche quello che solitamente tratteggia Pino nella sua opera letteraria. Una delle caratteristiche di Pino è una visione del mondo abbastanza dura. I suoi sono racconti fondamentalmente di storie al confine, di persone, le storie degli ultimi in un certo senso, se vogliamo dire, no? E questo libro non si smentisce. La cosa mirabile dal punto di vista letterario è che Pino riesce a coniugare delle tematiche di estrema durezza esistenziale con un afflato lirico che è proprio soltanto di grandi narratori naturali come io ritengo che sia. Comunque, in via preliminare direi due parole cercando di non spoilerare, come si dice adesso con un termine veramente terrificante, quella che è tutta la storia del romanzo. Vuoi parlarne tu? Vuoi fare tu un insulto? No, 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 vai. Si tratta di un'opera importante che affronta una tematica importante. Fondamentalmente ritrae un arco temporale relativamente ristretto con una protagonista donna che si ritrova, che si chiama Claudia, ha poco più di 40 anni, è una bella donna ma non lo sa e si ritrova a vivere una situazione paradossale, ossia quella di assistere in ospedale il marito che ha avuto un ictus e dal quale però è separata da anni e ha seguito di un rapporto estremamente conflittuale. In questo arco temporale in cui lei si trova sola ad assistere in ospedale 24 ore su 24 quest'uomo per il quale non prova più sentimenti di affetto, ripercorre dentro di sé in modo interiore la sua storia con questa persona e il suo vissuto personale nelle varie fasi di peggioramento perché passiamo da un rapporto che ovviamente era inizialmente d'amore, poi diventa conflittuale e alla fine diventa terribile. Quindi la prima cosa singolare è che ti sei immedesimato nei panni di una donna. Sì, ci sono se posso tre componenti che hanno costruito questo testo. Il fatto di scrivere con l'io femminile però è una prova che avevo già sperimentato con Caracaratura dove si parla di una madre che deve sopportare la fatica e il sacrificio di un figlio tossicodipendente dove racconto che le donne hanno muscoli molto più grandi degli uomini, soprattutto in certe situazioni. Perciò è un secondo esperimento questo che alla protagonista io metto su tutte le storie che ho incrociato in questi ultimi anni. Non è che diventi un mostro però parlo di tutte le violenze sia psicologiche che fisiche subite dalle donne che mi sono state raccontate. Il secondo elemento è un bigliettino e questo bigliettino è proprio come... Io per anni ho lavorato, continuo a lavorare al centro di salute mentale, al CSM, un acronimo una sigla di cui io sono assolutamente contrario. Cosa vuol dire centro salute mentale? Sembra dove andavo io. Tra l'altro penso se uno è malato di morroidi cosa gli scrivono? Centro salute del culo. CSA, se proprio vogliamo. Capisco questa insistenza nel fare... Ricordo che io collaboravo con una ventina di donne c'erano solo donne che alla mattina fingirono di andare a fare la spesa o delle commissioni varie perché nessuno doveva sapere che loro vanno al centro di salute mentale perché altrimenti sarebbero state indicate come polli, pazze, matte, queste cose qua. Centro di salute mentale che può capitare anche a noi, una depressione, una stanchezza, un esaurimento. Ma l'Italia non ha ancora fatto i conti col proprio rapporto conflittuale con la psicologia? No, no, non li ha neanche iniziati secondo me. Nonostante poi noi qua siamo una terra che ha dato in un certo senso il via per molti versi. Ma io dico sempre che se Basaglia si svegliasse per cinque minuti sarebbe molto incazzato. Non era questa la rivoluzione che lui aveva predetto e prescritto. Vicino a me c'era una signora di 75 anni e il tema della discussione in questo tavolo era sulla donna e lei era un ipovedente e prese questo biglietto e con una certa fatica scrisse questa frase mi disse leggila. Vi parlo di undici anni fa. Non si esce dalla violenza sulle donne finché gli uomini rimangono in silenzio. Ma parlo di undici anni fa, no? Sembra che può essere scritta anche oggi o due minuti fa. Questo è stato un altro motivo. E il terzo è la genesi del titolo, che sembra che sia una cosa poetica. Ma in verità io alcuni anni fa conducevo una trasmissione in radio, di come donna, dove ospitavo donne famose e non famose. Fra le non famose c'era una signora, Daniela, che aveva due figli con una tossicodipendenza molto forte, si chiama Bassasoglia, sono quasi non irrecuperabili, nessuno irrecuperabile, però all'ultimo stadio. Il marito era scappato e lei doveva supportare o sopportare tutta la fatica e il sacrificio per questi due figli. E allora le chiese se c'era un attimo nella sua vita, in questa vita tremenda, se c'era un attimo di riposo, di pausa, di sosta, e lei diceva senz'altro io ogni tanto vado nella mia camera, mi chiudo e ascolto Claudio Baglioni. Questo fu la... quando ascolto Claudio Baglioni non esiste la vita, non esiste la tossicodipendenza, non esiste il dolore, non esiste la fatica. Siccome non potevo mettere ci vorrebbe Claudio Baglioni, ho messo ci vorrebbe un sassofono che è molto più poetico e che è un strumento che amo. Volevo finire questa storia di Daniela, perché due mesi dopo è venuto Baglioni a Trieste e io ho ribaltato il mondo pur di parlare con il suo agente, di incontrarlo, avendo io lavorato con suo figlio Giovanni, e ci siamo messi d'accordo. Insomma io gli ho fatto avere due biglietti, Claudio gli ha fatto avere due biglietti in prima fila, e Baglioni è uscito mezz'ora prima dello spettacolo, è passato per la prima fila, e ha detto sto cercando la signora Daniela, questa stava per svenire, e l'ha portata in camerino con lui e per mezz'ora gli ha parlato, l'ha ascoltata, e ancora oggi ricorda come una delle cose più belle e straordinarie della sua vita. E' scritto con l'io femminile, primo perché mi riesce molto meglio colloquiare con la parte femminile che quella maschile, sarà per il mio passato, sarà per quello che ho vissuto, comunque spesso si fidano, spesso mi raccontano proprio come un bisogno di sfogo, è quasi una terapia, raccontare tutte le violenze che loro hanno vissuto. La cosa che mi stupisce, meraviglia, io non l'ho scritto per questo, è che finora, adesso mi ricordo quando è uscito, ma due o tre mesi fa questo libro, dieci donne sono andate a denunciare la violenza dei propri congiunti. Ripeto, io non l'ho scritto per questo, però da questo in alto sono andate queste, e credo che sia un enorme successo per me. Ascolta, non era programmato in realtà, però per come stiamo discutendo mi sento di farti una domanda linguistica, che però ha uno stretto legame con l'attualità. Purtroppo i femminicidi e la violenza sulle donne sono un argomento all'ordine del giorno. L'inizio d'anno di questo 2020 è stato assolutamente devastante. Tra l'altro ci preoccupiamo del coronavirus, che non ha ancora fatto vittime, mentre le vittime di femminicidio sono purtroppo numerose. Come la vedi tu la polemica linguistica, che poi è linguistico-sociale, sul termine femminicidio? Cioè il femminicidio esiste o è un artificio giornalistico? Io credo che i media siano uno dei maggiori colpevoli dei fatti che stanno succedendo. Io l'altro giorno ho aperto un telezonale, hanno parlato prima di Morgan, Buco, Bugo, non so chi dice, insomma, no? Che è due femminicidi. La cosa mi ha sconvolto, però c'è una seufazione, non preoccupa più, cioè non colpisce più, giriamo pagina, è una delle tante, tanto che gli stessi autori del reato gli sembra una cosa quasi normale, no? Lo fanno tanti, lo fanno tanti e si va avanti così, girando pagina e non intervenendo seriamente sul problema. Io ricordo il fatto del, che tutti credo ricorderanno, il fatto dei sassi dal cavalcavia. Io ho parlato con uno di questi quattro ragazzi, nei carceri di Verona, lui mi raccontava che si dà un milione di volte al giorno dello stronzo per aver commesso quel fatto, però ricordo che quello diventò un fenomeno, perché poi tutti i sabati, o molte sassi dal cavalcavia... L'emulazione è un pericolo concreto. Ci fu una riunione a un certo punto di direttori di quotidiani che decisero di non pubblicare più questa notizia e il fenomeno si è spento. Ora io non dico che non bisogna più pubblicare le notizie dei femminicidi, anzi, le metterei in prima pagina, ma non con la morbosità con cui fanno adesso. L'ha detto benissimo, adesso non mi viene la giornalista a Sanremo, che ha detto, si ricerca addirittura il vestiario, come era vestita. C'è stata una mia... mi prendo la responsabilità questa intervista di Bruno Vespa con questa signora violentata, è stata una delle più tremende interviste che io abbia mai visto, sembrava quasi follia. Lo stesso Davigo, che è una persona sicuramente ammirabile, pochi giorni fa voleva scherzare su questo, ma io non credo che si possa scherzare, ha detto che conviene forse commettere il reato, uccidere la donna, perché bene o male, con l'attenuante, con la confessione, con quattro anni e si è a casa e si è liberati della moglie. Beh, questo aprirebbe un discorso enorme sullo stato dell'arte, della giurisprudenza e della legalità italiana, perché vale un po' per tutto in realtà. Certo che vale un po' per tutto. In questo caso è particolarmente drammatico e particolarmente amorale. Certo che vale per tutto, però in questo momento credo che nessuno si possa neanche ipotizzare di scherzare su una cosa del genere o di fare un'intervista senza avere delle nozioni esatte o giuste o delle informazioni esatte. La donna era completamente annientata davanti a Bruno Vespa, perché sembrava quasi colpevole di essere stata violettata. e credo che resista la cultura del maschio, l'arroganza o il possesso del maschio. Sembra che sia il Medioevo quando quella ragazza, parliamo di 15 anni fa, fu violentata da tre ragazzi e i tre ragazzi, il giudice gli diede le attenuanti perché la ragazza portava i jeans aderenti. ma sembra che parliamo veramente del Medioevo. Stiamo parlando di 15 anni fa, ma parliamo di oggi. E credo sì che noi uomini siamo anche in parte colpevoli, nel senso che non abbiamo mai solidarizzato, partecipato, protestato, se non per un fatto personale a chi è capitato. Questo silenzio ha molto, non voglio dire di assenso, però va bene così. Sì, la questione è estremamente articolata e complessa perché da quello che dicevi tu si aprirebbero rami di discussione, non dico infiniti ma quasi, perché ci sarebbe da discutere sull'opportunità di riportare la notizia e sul modo in cui si riporta la notizia. e dei giorni scorsi la notizia di un ennesimo femminicidio avvenuto tra l'altro a colpi di coltello in cui l'uomo che poi si è tolto la vita a sua volta era sul corpo della donna, della sua vittima. E il giornalista, che il cielo ci preservi, ha chiosato come se volesse proteggerla dopo averla uccisa. Sono violenze verbali queste che lasciano il segno e che danno anche l'idea di una forma di giustificazione perché tra le cose con cui non abbiamo fatto i conti noi è anche il delitto d'onore e questa visione dell'uomo padrone. Tra l'altro poi tu sei veramente esplicito. Non ci sono dubbi su come la pensi Pino in questo romanzo che si apre tra l'altro con una dedica possiamo dire in cui è sconsigliata la lettura ai maschi col coraggio della vigliaccheria. Tra l'altro in queste sette parole c'è molto del tuo stile tra l'altro questo uso singolare del complemento di specificazione dell'aggettivazione. Comunque me la vorresti esplicitare un po'. No, questa l'ho scritta perché alcuni anni fa mi offrirono un progetto nel carcere di Pordenone dove è l'unico carcere in regione che ha questa sezione chiamata incolumi o protetti sono una trentina, quarantina di detenuti che non possono andare in contatto con gli altri detenuti perché non andrebbe la loro incolumità fisica sono persone, una piccola parte sono collaboratori di giustizia la grande parte, la maggioranza sono persone che hanno usato violenza sulle donne dalle bambine a tutto quanto. Mi proposero di fare un testo teatrale di fare del teatro con questa sezione io per un mio codice etico rifiutai e dissi no, 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 io lì non ci posso andare. Poi dopo varie 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 insistenze io andai, mi trovai davanti a 20 detenuti in una cella grande e dici guardate io sono qua per scrivere un testo teatrale il soggetto è la violenza sulla donna appena finito di parlare due dei detenuti mi aggredirono fisicamente ma non per la provocazione che avevo fatto quanto per la difesa o per la vergogna del loro stato loro non ne parlano, non ne parlano mai tra di loro la cosa aberrante che ho saputo poi invece che queste persone incontravano la psicologa o psicologo una volta ogni due mesi quando arrivava, quando capitava perciò utilissimo sono persone che come sono entrate così escono non è successo forse è peggiorata addirittura l'altro anno uno che era stato messo a palla spazzatura fuori dal carcere che è un convento insomma il carcere di Bordenone è scappato e alla notte ha violentato una ragazza a Bordenone ecco questo per dire io mi riferisco sempre a una frase che disse un sociologo che non è conosciuto si chiama Ferrari è svizzero che tanti tanti anni fa mi illuminò proprio la mia idea lui disse che domani se domani per miracolo sparisce tutto il disagio sarebbe un dramma mondiale allora è come se noi volessimo mantenere un certo una certa quota di di disagio altrimenti non si capisce perché il 75% del popolo carcerario torna a delinquere quando il carcere dovrebbe rieducare e rinserire non si capisce perché i ragazzini la prima volta che vanno al CERT gli danno dosi da cavallo parlo di metadone quasi per trattenerseli come tra virgolette clienti e non capisco tante altre cose insomma beh qua starei tutto il giorno a parlare di come vengono usate le sostanze dai potenti o da certi stati proprio anche per finanziarsi le guerre e altre cose però di questo non si parla non si dice e si va avanti così sì è un argomento clou di certa letteratura distopica a partire dal mondo nuovo che teneva sotto controllo la popolazione con la droga di stato sì ce ne sarebbe ce ne sarebbe da dire tra l'altro tra le cose che sono passate che passano continuamente volevo buttarla lì in subordine rispetto agli umori di Morgan ci sono anche le vittime dei morti sul lavoro che trovano meno importanza del gossip ma insomma io sono reduce da Taranto una settimana fa posso assicurarvi che la situazione è disperata ascolta allora io a proposito di sociologia c'è un fenomeno in sociologia che si chiama stanchezza della compassione che per certi versi dà da pensare anche appunto come dicevamo prima sull'opportunità di affrontare in che misura e quanto determinati argomenti la tua protagonista in un certo senso prova una grande stanchezza della compassione perché ha dovuto stare sulla barricata per tutta la vita sostenere un ruolo che la 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 oppressa e si ritrova a un certo punto ad assistere questa persona che è stato anche un suo soprattutto è stato il suo guzzino pur non volendolo fare quindi è incastonata in un ruolo che non sente suo e lo dice tra l'altro anche verso la fine in maniera commovente il sole ha smesso di scaldarmi l'animo e vivo con piogge continue di morsi e aceto non mi ricordo più come si ride come si abbraccia come si piange di gioia come ci si commuove come si sogna come si è contenti per niente come si condivide un dolore come si applaude una poesia e va avanti a questo punto volevo fare anche una piccola considerazione nella tua scrittura in questo caso particolare hai trovato dei dei punti o almeno io li ho individuati non so se poi sarai d'accordo ci sono tre monologhi clou della protagonista che parla di amore di felicità e di dio in maniera veramente in cui sembri lasciare poco spazio alla speranza per dire il primo vi leggo soltanto cinque righe no io non credo all'amore è soltanto una truffa truffa perfetta e sopraffina che come un avvoltoio gira nell'aria cercando osservando scrutando poi improvvisamente ti sceglie ti illude ti incanta abbaglia seduce lusinga e poi e poi e poi e poi Claudia si abbandona si abbandona perché fin da piccola quando gli chiedevano cosa vuoi far da grande lei diceva voglio essere felice questo era il suo il suo non sogno proprio obiettivo un obiettivo e lei è una che ha fatto lotte di classe insomma l'obiettivo sembra raggiunto quando incontra Enrico il suo futuro marito che in un anno di fidanzamento è l'uomo più bello del mondo il suo principe azzurro è pieno di cortesie di attenzioni di belle parole di poesie e tante altre cose dopo il matrimonio si ribalta tutto c'è un passaggio che è molto tipico nel nostro mondo faccio un esempio se c'è un notiziario allora se la donna interviene dice dice una sua opinione ma sta zitta stupida che non capisce niente no? è una frase che a volte o spesso si dice ecco io la ritengo già questa una grande violenza psicologica no? come se le donne fossero sì c'è questa stupidaggine del sesso debole il sesso forte vorrei vedere e lei comincia a subire le violenze del marito ma anche le menzogne le menzogne sono violenze lei ha il quinto mese di gravidanza sta malissimo deve essere portata in ospedale e chiama il marito il marito gli dice ma proprio adesso c'è una riunione importantissima di lavoro dove si decideranno le sorti dell'azienda e lei dice va bene vado sola guarda appena finito ti raggiungo in verità dovrà andare a fare una finale di calcetto non questo è soprattutto questo marito dopo il matrimonio non la guarda mai negli occhi e lei è una cosa che nota che che gli fa male tant'è che c'è un episodio all'interno del racconto di questo medico che viene a visitare il paziente perché è gravissimo ma è in fin di vita però è una cosa che appartiene ai medici dell'ospedale questo quello di guardare sempre per terra è di non guardarti negli occhi e allora lei lo ferma anche con una certa violenza e gli dice mi scusi ma di che colore sono i miei occhi e lui la prende per una pazza ma chi è questa donna qua è una donna che non vuole più essere bella che non crede più di essere bella che non che non crede necessario di spendere il tempo per ritornare bella tant'è che ha un conflitto con lo specchio c'è un piccolo specchio in questa camerina nel bagno uno specchio che gli diventa coscienza che gli dice no non puoi arrenderti devi devi tornare la Claudia di prima e lei rinuncia a tutte a tutte le bellezze della donna perché perché non ha raggiunto la felicità perché l'uomo poi oltre l'indifferenza oltre le violenze verbali c'è un episodio di una violenza fisica che lei non riesce più a digerire non riesce più e che gli ritorna in continuazione tant'è che il suo non è odio è rabbia rabbia contro questa persona che l'ha sporcata e questo è un è un filo continuo che accompagna tutta la storia di questo marito che si sta spegnendo e lei tra i bip bip delle macchine ogni tanto si concede la pausa di un sassofono dove riesce a riposare dove riesce anche a sognare e poi ritorna a vivere a essere costretta a vivere questa malattia qualsiasi persona avrebbe pietà di una persona che sta morendo lei non ce l'ha perché si sente addosso ancora la violenza di questo uomo la prepotenza di questo uomo si sente addosso io faccio quasi un monologo sullo schiafo quanto fa male uno schiafo quando lei dice che lo schiafo non passa mai ti resterà sempre sulla guancia lo schiafo violento del marito e sono tutte cose che lei non perdona c'è di mezzo poi una figlia che è l'autrice di questo incontro io vi leggo solo le prime due pagine di questo discorso con la figlia dove ci sono state alcune polemiche in alcuni incontri che ho fatto per questo libro e la figlia unica si chiama Chiara che ha una venerazione per il padre tra l'altro sono due giorni che sono chiusa chiusa incarcerata dentro questa stanza una stanza che misura otto passi per quattro moltiplicato per 48 ore e danno la somma di una stanchezza infinita infinita qui dentro si respira l'odore violento di alcol e malattia mi gira la testa vedo bianco vedo nero la nausea mi scuope la gola e mi succhia lo stomaco un'angoscia ho già omitato due volte una stanza dove la morte con la fame della voltoio continua a lecarsi le bave in attesa di ingoiarsi l'esistenza manca tanto manca poco non lo so fosse permesso di sferire immediatamente l'urgenza di questo schifoso volatile e la chiuderei qua un colpo e via tutto finito per favore chiudiamo qui l'affare aprite la porta che finalmente esco da questa stramaledetta stanza voglio uscire da questo posto di merda ma che nessuno ascolta la rabbia si stanca e l'odore della malattia impone il silenzio e ristabilisce gli equilibri ogni tanto per salvarmi chiudo gli occhi inventandomi il soffio di un vento mi creo un volo e tento di scavalcare queste quattro pareti color grigio tragedia e poi mi lascio andare e trasportare lontano lontano vorrei tanto andare al mare quello che quando ti vede ti corre incontro e ti abbraccia la pelle vorrei il vino allegro il canto intonato stonato non importa vorrei piangere una commozione davanti al colore straordinario di un tramonto e poi vorrei tanto appoggiare i miei pensieri sul movimento perfetto e ritmato delle onde lasciando che la vita scorra nel mistero incantato della libertà dura poco dura quasi niente il respiro si ferma il soffio si strozza mi ritrovo nuovamente infrigionata e soffocata dall'angoscia quando lo riapro gli occhi si asciuga il vino si spegne il tramonto e spariscono le onde e davanti a me vedo sempre la stessa identica immagine quella di un Cristo con il cuore tra le mani che mi sorride guardi che non c'è niente da sorridere qui dentro c'è solo da piangere e bestemmiare scelga lei quello che preferisce ogni 60 minuti circa entra anche il disbrigo del controllo a volte c'è il viso a punta di un medico maschio altri il sorriso di una paresi di una donna l'infermiera entrambi osservano ispezionano e poi se ne vanno consegnandomi l'identica parola coraggio 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 ma coraggio sto cazzo guardate che io non ci volevo venire in sto posto di merda è stata la violenza di mia figlia a costringermi tutta colpa sua tu devi essere lì mamma stagli accanto non puoi lasciarlo solo Giada ma cosa dici dico che è un tuo dovere morale dovere umano e soprattutto dovere di consorte Giada l'hai giurato nella buona e nella cattiva sorte sempre ma sei impazzita ma se siamo separati da cinque anni ecco appunto separati e non divorziati perciò siete ancora marito e moglie sembrava in queste polemiche che fosse molto non fosse possibile che una figlia in questo caso può essere anche un figlio si comporti in maniera diversa tra padre e madre io che ho lavorato fino a poco fa nelle carceri so di una coppia padre e madre che sono in carcere e di una figlia che va ogni sabato al colloquio alla madre porta il cambio biancheria e va a trovare il padre ci sono moltissimi di questi casi poi in questo caso Enrico il padre era quello che gli dava tutto quello che lei voleva quello che desiderava Claudio e la madre era quella che voleva imporre le regole per una vita sana per una vita che non fosse confusione come la sua da qui questo innamoramento per il padre tanto da giustificarlo anche nelle cose sue più tremende è uno scherzo è un gioco e tutte queste cose qua beh va detto scusa che la figlia non sa esattamente no 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 perché comunque Claudia tende a proteggerla cassando le parti peggiori tra l'altro l'ultima violenza che subisce sì che è una delle più forti e in questo in questo testo io tra l'altro questo testo l'ho scritto in 20 giorni ma tutti i miei libri li scrivo in 20 giorni con i nervi scoperti proprio perché non sono capace di dire io non so neanche il finale il finale mi arriva all'ultimo momento anche qui c'è un finale abbastanza ma succede quando uno è un narratore e viene guidato dalla storia con la S maiuscola sì 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 si accende la corrente e si parte poi tieni presente che io scrivo assolutamente tutto o rigorosamente a mano perciò c'è una trasmissione di emozione sensazione rabbia che è portata dal braccio sulla carta ci sono altri personaggi c'è ad esempio l'ex prostituta infatti io avevo qua la pagina aperta proprio sul dialogo perché è il secondo dialogo monologo che io ho trovato uno dei punti di svolta tematici del libro quello sulla felicità che è un argomento topico abbiamo avuto un film famosissimo di Muccino la ricerca della felicità la tua visione della felicità non sembra essere qualcosa che si ricerca perché comunque non la si può trovare è un altro inganno come l'amore tu la definisci l'utopia della felicità questa è abbastanza mia questo pensiero lì volevo arrivare non solo di Claudia a parte il fatto che è bello lungo ma io sintetizzo con le prime righe anche per non annoiarvi con la mia voce che è quello che è allora la felicità la felicità la felicità è soltanto un clamoroso imbroglio lasciatelo dire un imbroglio che prima ti chiede tutta una vita di sospiri e sofferenze e poi a parte qualche abbaglio non si fa trovare sentire si rifiuta di pagare cara mia la felicità è come una ballerina senza gambe una rondine senza ali una rosa con mille spine e nessun profumo quindi è la tua visione della felicità posso sembrare pessimista ma no ma proprio un pelino no io ho sempre avuto l'idea che la felicità bisogna rincorrere bisogna sfiorarla appena appena toccarla qualche volta ma subito dopo staccarsi perché se caschi dentro la felicità poi diventa abitudine il tunnel della felicità e non è più felicità no no è tutta un'altra roba è una convivenza è una storia ma non è felicità per raggiungere la felicità ci vuole fatica ci vuole muscolo ci vuole sudore impegno molto non è una cosa caso la felicità ti può venire dai figli ti può venire da un amore che scatta con una scintilla che magari fra tre mesi non funziona più la scintilla però non si lo ritengo non un imbroglio però una trappola si questa sicuramente si a proposito di di trappole noi siamo l'unica presentazione ne posso dire io ne ho fatte credo una cinquantina di presentazioni e tu sei l'unico uomo che mi presenta no perché ho una fortissima componente femminile bravo quella persona lì mi ha scelto apposta e poi soprattutto abbiamo voluto fare una cosa innovativa il libraio ha portato solo quattro copie no che verranno sorteggiate veramente pensavo che le dessimo all'asta all'asta potremmo pensare all'asta rischi di venire via con una coppia a cinquecento euro sì volevo dire questo c'è questa Silvana che era una donna di quelle che vende l'amore ed era una donna bellissima inseguita da generali da persone importanti poi poi arriva la vecchiaia arriva un'anca che non funziona più arriva la claudicanza nessuno più la cerca e lei che avrebbe potuto forse raggiungere una certa felicità è quella che dice proprio a Claudia guarda che la felicità non esiste tant'è che alla fine di questo discorso lei è una donna molto forte questa Silvana alla fine del discorso Claudia gli dice ma secondo te dico una fesseria se ti auguro una giornata felice indovinate la risposta di Silvana va a cagare cioè non nel senso che era una che tagliava i discorsi in questo modo leggermente tranchante sì ascolta io ho ancora una cosa due cose che ti devo chiedere fondamentalmente una è il terzo monologo centrale che è quello che io vedo riguardo a Dio poi si potrebbe parlare del sassofono dei ruoli del sassofono di quali canzone di sassofono per esempio io sempre nel mondo ideale speravo di poter sentire una canzone dei Quarterfresh che si intitola Harden My Heart che sarebbe stata perfetta perché effettivamente anche Claudia deve indurire il suo cuore la possiamo fare ad aria però sì assolutamente oppure non so sarebbe stato bene anche Sad Song di Elton John perché comunque se è vero come diceva Hemingway che i bivi della vita non ci sono indicazioni uno dei grossi problemi esistenziali almeno dal mio punto di vista è che non c'è neanche la colonna sonora appunto che a volte aiuterebbe ad accompagnare qualche momento di particolare difficoltà e d'altra parte è anche vero che in determinati momenti della nostra esistenza sentiamo l'esigenza di accompagnarci con delle musiche che sentiamo assolutamente comunque divagato ciò monologo su Dio estremamente particolare perché anche in questo riguardo a questo argomento tu la vedi dalla parte della donna tanto che ti rivolgi a Dio direttamente dicendogli secco ma non era meglio se nascevi donna che di per sé è un contrasto logico ma funziona meravigliosamente così comprendevi l'ingiustizia delle distanze non potevi far partolire l'ignoranza degli uomini con l'obbligo della nostra sofferenza non potevi toglierci il distinguo del sesso debole e darci alla pari diritti del maschio e poi prosegue non potevi con i tuoi miracoli paralizzare l'infamia e la cattiveria dei pugni cattivi dei maschi che continuano a battere la loro infamia sull'umiliazione di noi donne dici tranquilli andranno tutti in paradiso ma a cosa serve se poi le madri sono costrette a vivere in terra con il dolore dell'inferno è ben scritta sta cosa no perché io non rilego mai le mie cose ecco una cosa che ci accomuna ah ok eh sì e questo sfogo a dio che anche questo è in parte mio nel senso che ehm io ricordo che da bambino io ero un bravo bambino facevo il capo chirichetto sapevo le poesie in latino sapevo la messa del mattino il rosario della sera e poi ho smesso di fare il bravo bambino e sono diventato un cattivo ragazzo ehm la io scrissi una volta una lettera a dio no e ricordo che lavoravo al CERT chiedevo a dio se farsi le pere è un peccato no era una lettera lunga che poi ha girato tutte le comunità ricordo di averla data a due sacerdoti Don Ciotti e Don Don Gallo no e loro mi hanno detto che è di una cristianità unica cioè eh poter dire a dio eh certe sue mancanze io credo che oggi dio sia molto stanco non sia più capace neanche di far miracoli eh per la sua stanchezza eh e forse anche per la delusione di questo mondo che va eh non non nella sua direzione ma da un'altra parte eh e questo è anche un po' lo lo spirito di 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 Claudia ma è anche lo spirito di chi è disperato di chi è disperato e molti si affidano alla fede molti e invece discutono con con Dio eh dandogli del tu eh e ci litigano magari e ci litigano ma forse anche ridono sorridono non lo so se va bene qualcosa eh eh e credo che almeno per quello che mi riguarda sia la parte migliore eh migliore per comunicare ultima cosa poi magari lasciamo io voglio dirti una cosa una cosa c'è un fatto strano in questo testo ed è vi giuro assolutamente vero che Claudia mentre sta eh stavo per dire porconando ma non porconava no mentre stava lì a ad arrabbiarsi in questa stanzetta vede entrare un'infermiera eh che con molta premura eh mette a posto le coperte del suo ex marito che è marito perché non si sono divorziati tecnicamente e e che gli accarezza la testa e allora lei si incuriosisce e si avvicina e gli diceva come mai come come mai dice Enrico il mio uomo era la l'amante di di del suo ex marito una delle una delle è l'ultima sì e lei gli racconta che Enrico gli scriveva poesie che Enrico era una persona straordinaria eh questo fa andare fuori di testa Claudia all'inizio poi invece c'è una certa solidarietà tra loro due eh anche nel 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 di 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 Claudia e questo per dire che almeno qua sì la solidarietà eh c'è eh volevo finire con il con il finale io potrei anche leggervelo a pagamento logicamente è un finale posso definirlo strano no sì sì poi perché molte persone hanno dato un'interpretazione e molte eh un'altra eh sai che una persona una presentatrice mi ha letto il finale in pubblico signora per far capire meglio eh e questo proprio perché non sapevo come poteva finire questo questo romanzo e perché i finali che mi hanno raccontato queste donne erano tutti drammatici eh non erano eh siccome tutti i miei libri finiscono con anche con una speranza perché eh per uno che ha vissuto come me eh che uno che ha diciotto anni assistente sociale tribunale ha detto per me Pino Roveredo è irrecuperabile sono quarant'anni che gli avevo metto in quel posto voglio dire eh sono soddisfazione chi più di me può parlare di speranza e per questo eh ho ho scritto questo eh volevo dire che eh io sono reduce da poco da eh da Taranto Perugia Vittorio Veneto ho fatto un giro ho incontrato migliaia di studenti eh non che ignoravano che esistesse femminicidio lo sapevano eh come lo sa molta gente attraverso i giornali non lo sapevano nel particolare o in una riflessione eh che porti a dare un giudizio eh assolutamente diverso da quello che si dà eh oggi se volevi canto vabbè io volevo chiederti del tuo ah sì volevo dire una cosa eccolo ma questa ci tengo sì sono sette righe queste mi hanno mi hanno sorpreso a un certo punto una donna mi parla degli abbracci l'abbraccio che si dà Rita l'amante è lei ed è un abbraccio salvifico e per me l'abbraccio è sempre stata una cosa essenziale vitale eh l'ho imparata dai miei genitori prima poi l'ho imparata nel luogo forse eh meno eh meno impensabile l'ho imparata nell'ex manicomio dove io lavoravo nel padiglione con 15 persone ex internati oggi ricoverati eh dove era assolutamente impensabile entrare e dire ciao buongiorno buonasera cosa avete mangiato hai visto che bella giornata era assolutamente obbligatorio abbracciarsi ehm io questo l'ho già raccontata abbracciarsi perché era quello l'unico modo per scambiarsi il ripeto il gradimento del saluto io ricordo che per alcune settimane io abbracciavo chiunque per strada bastava che mi dicesse ciao ma anche sussurrando io l'abbracciavo ricordo di essere stato sospettato di varie inclinazioni nel senso che l'abbraccio è un fatto pesante però eh sono sette righe e lei lo dice Claudia gli abbracci ti lasciano il segno e riescono a sollevarti la vita a volte quando penso alla bellezza di quel gesto mi concedo la felicità di un sorriso la maestra di prima elementare raccontava a noi bambini che quando nasciamo tutti indistintamente abbiamo a disposizione mille abbracci e quando e se li terminiamo possiamo raccogliere nell'aria quelli distratti che non sono stati consumati da quella volta ho sempre pensato che intorno al nostro respiro girano milioni e milioni di abbracci grazie allora io so che non ci sono domande perché perché siamo stati esaurienti senza dubbio ormai potrei continuare io comunque no no ma mi sembra che abbiamo duettato a sufficienza piuttosto se qualcuno ecco lì la prima manina di un uomo e te pareva la mia è una storia sbagliata di Giandre che ascolto parecchie volte e credo che lui vecchi proprio sul il centro del del mio pensiero e di molti altri pensieri io ricordo ad esempio questo credo che l'ho anche raccontata però io che vado a lavorare con i ragazzi della panchina di Pordenone ragazzi al 90% con l'AIDS si dice portato dagli americani di Aviano che si riuniscono nel centro della città su questa panchina sono brutti da vedere soprattutto per i turisti vengono a sgombrarli un'associazione decide di dargli una sede però mezza città dice che no non sono degni di una sede e protestano e fanno una fiaccolata notturna contro la sede dei ragazzi della panchina allora mi chiamano mi dicono facciamo qualcosa io scrivo in due tre giorni un testo teatrale che si chiamava Le fa male qui era la cronaca di una mattinata in un pronto soccorso dove entrava l'ipocondriaco dove entrava lei non sa chi sono io sono tutte le e entrava anche un ragazzo con la tossicodipendenza era Ginetto che interpretava la sua parte che parlava e nessuno lo sentiva veniva completato che viene completamente ignorato invisibile praticamente alla fine tutti se ne vanno rimane solo in questo pronto soccorso e inizia il suo monologo che ricordo iniziava noi ragazzi con l'AIDS siamo dei grandi privilegiati perché abbiamo l'onore dei guanti bianchi e voi no e poi proseguiva anche con una certa rabbia alla fine fece un gesto dell'ombrello a un teatro strapieno di gente e dico ma sei scema ma cosa fai allora lui ci spiega che quel gesto dell'ombrello era rivolto al medico che gli aveva pronosticato una settimana di vita Ginetto ha vissuto 15 anni 15 anni di gesto di ombrello per tutti proprio perché è stato accettato proprio perché ci siamo voluti si può dire bene e questo ha fatto sì perciò gli abbracci servono anche servono anche a star bene e a guarire grazie se volete applaudire potete applaudire vuoi acqua? no grazie altre domande? sì 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 ma io io sono stato fino a un anno fa garante regionale delle persone private della libertà poi è cambiata giunta e mi hanno mandato a casa perciò sì il carcere io lo frequento da anni garantivi troppo? eh? il problema era che garantivi troppo? garantivo troppo sì infatti adesso non c'è nessuno ops il carcere lo conosco molto bene c'è una statistica che dice che il 5% ogni giorno 5% dei detenuti che vengono portati in carcere sono innocenti si sta discutendo in questi giorni in modo molto animato e confuso della prescrizione e non si parla invece che un processo dura 6-7 anni 8 anni e ci sono vari casi di persone che hanno scontato la loro pena da innocenti io ho conosciuto quello che è diventato poi famoso anche in tv perché ha confessato dopo aver preso per giorni e giorni delle bastonate da parte e torture da parte degli agenti e lui confessò un omicidio che non aveva mai commesso e l'ha pagato con 24 anni della sua vita poi un agente dopo 24 anni si è pentito e ha raccontato la vera verità che questa persona non c'entrava niente però io con lui ci ho parlato e vi posso assicurare che aveva una serenità che io gli invidiavo aveva una serenità nel senso che dicevano si può più tornare indietro odiare chi per cosa non serve cerco di godermi questi ultimi anni che erano ormai già catalogati nell'ergassolo che lui aveva ricevuto credo che sia una delle cose peggiori che ti possano succedere entrare io adesso vi racconterò una mia fobia io non ho commesso reatis però ogni volta che mi capita di andare in questura io ho una paura da cagarmi addosso non so perché ho paura che venga qualcuno e mi dica scusi lei no? e finisce e finisce la tua storia no? però ci sono le storie di Enzo Tortore e di tanti altri che hanno pagato ingiustamente le pene io oggi classifico il carcere come il vecchio manicomio di una volta nel vecchio manicomio di una volta si mettevano si buttavano dentro tutte le vergogne si buttavano gli schizofrenici i malati di depressione si andava dentro anche per delazione si andava dentro perché si era una ragazza madre e le ragazze madri erano una vergogna che non si potevano esibire io ho appena finito di leggere un libro non mi ricordo il titolo andavano le ragazze del paese soprattutto dei paesi perché erano fatte erano state partorite per servire l'uomo per servire la casa e non dovevano protestare chi si ribellava veniva definita pazza veniva una demente e spesso molte di queste ragazze sono finite in manicomio in manicomio c'era questa regola che più protestavi e più ti allungavi la pena e sono morte tantissime persone ecco oggi credo che che il carcere sia diventato il manicomio il 70% dei detenuti ha problemi psichiatrici i suicidi sono aumentati in una maniera spaventosa i suicidi anche da parte degli agenti penitenziari che devono vivere comunque una vita da ristretti e credo che sì che la che non ci sarà un basaglia che andrà a liberare le carceri o dargli la dignità non vuole essere un'apologia del reato o del detenuto però questo sistema sembra più un sistema di vendetta che di riparazione del danno e credo che così prima o dopo scoppierà 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 oggi abbiamo le carceri che una cella da due vivono in otto come si fa a vivere in otto in sei passi per due o per tre è difficile è difficile che non ti salti che non ti salti la ragione io quando ero garante ricordo che a Gorizia istituirono una cosa abominevole la sezione per gli omosessuali che non è mai esistita in nessun carcere perché gli omosessuali per un codice interno sono sempre stati protetti nessuno si è mai approfittato al massimo andavano in infermeria è arrivata questa invenzione io vado a vedere cosa sta succedendo in una sezione completa dove stanno 40 detenuti ci sono tre persone parlo con la prima parlo con la seconda poi parlo con la terza e mi dice ti devo dire una cosa dimmi io non sono omosessuale e cosa fai qua ho firmato pensavo di stare meglio cioè questa non è giustizia credo che viviamo una grande confusione volevo dire l'ultima cosa anche i magistrati abbiamo pochissimi magistrati che devono sfoltire pacchi e pacchi di cause e poi succede anche che sbagliano sbagliano soprattutto quando mettono ai domiciliari l'autore della violenza vicino al posto dove ha commesso la violenza come fosse un invito vai più volte è successo che questa che la persona ai domiciliari va ad ammazzare la consorte però queste sono cose che nella nostra società si dicono sotto voce o non si dicono perché sono scomode e io credo invece che sarebbe ora di dirle queste cose di farle emergere ma soprattutto di far ragionare queste persone finisco dicendo l'ultima cosa io ricordo che quando ho fatto ho fatto quasi tre anni di garante io ogni mese puntualmente mandavo una mail a tutti i consiglieri di tutti i colori della regione invitandoli a venire a fare una visita in carcere senza fotografo e senza giornalista per cortesia no? non mi è mai arrivata una risposta in tre anni mai mai se qualcuno va in carcere qualche politico lo fa solamente perché c'è il giornalista e lui sarà fotografato davanti al carcere e poi non se ne occuperà più il carcere un tweet un po' di selfie sì sì in carcere non porta voti per questo credo sia assolutamente lasciata nell'indifferenza più completa innocenti compresi io volevo dirla mia solo un secondo io credo che la tua fobia della questura non sia poi così irrazionale perché in realtà esiste anche una letteratura dell'errore giudiziario a parte le situazioni kafchiane e legate al concetto di burocrazia dove quando ti impantani non esci più che è una cosa eminentemente italiana ma poi abbiamo ad esempio mi viene in testa il film con Alberto Sordi detenuto in attesa di giudizio il più grande film il più vero film fatto sulle carceri italiane tutto il resto è tutto è tutto noia ma il vero film questo di Nani Loi sul carcere lo rappresenta in maniera perfetta e tra l'altro volevo così chiusare perché tra le tante cose parlando poi di manicomi eccetera tu nel libro hai trovato anche lo spazio per una poesia di Alda Merini che non so forse per chiudere ma se poi volete chiedere ancora qualcosa va anche bene volevo leggere il finale della no leggila tutta non puoi leggere il finale tutta eh certo sono di Cirilla va bene allora il vento la bora le navi che vanno via il sogno di questa notte è tu eterno soccorritore che da dietro le piante onnivore guardavi in età giovanile i nostri baci assurdi alle vecchie cortecce della vita come eravamo innamorati noi laggiù nei manicomi quando speravamo un giorno di tornare a fiorire ma la cosa più inaudita credi è stato quando abbiamo scoperto che non eravamo mai stati malati bene adesso o la buttiamo in rissa qua per quattro la consideriamo chiusa? sì bene allora ringraziamenti sparsi di nuovo alla Casa della Musica all'amministrazione comunale a Orietta all'Arci a Pino grazie enorme sia per essere stato qui sia per aver scritto qualcosa di veramente importante di cui c'è bisogno bravo e spartitevi sti quattro libri grazie a Keogね grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti